Rientra a casa dopo la mezzanotte e avverte un po' di freddo. Era il gelo che entrava dalla porta finestra, mandata in frantumi dai ladri. Una trentenne di Vicenza ha fatto la mara scoperta domenica notte appena tornata nel suo appartamento di via Camaldolesi. I ladri, saliti al primo piano attraverso la terrazza, si sono fatti in strada rompendo la grande vetrata. Una volta all'interno hanno subito rivolto la loro attenzione alla camera da letto, dalla quale sono usciti con 150 euro in contanti e alcuni gioielli per un valore di 1500 euro circa. Sul posto le volanti della polizia.